buongiorno ragazzi ma eh cioè quello che voglio dire io rispettando le opinioni di tutti cioè vi rendete conto che siamo primi a venti punti dalla Juve che eh questo eh è un campionato che alla fine non è mai esistito cioè eh è rimasto competitivo per qualche mese e io voglio battere su un punto perché a me da noia quando le persone negrano l'evidenza questa è una rosa che ha tredici quattordici giocatori buoni il resto è fuffa e il campo te lo sta dicendo te l'ha detto anche ieri è inutile pensare di avere la rosa del Real Madrid questi ragazzi questo allenatore i dirigenti che hanno lavorato con zero euro perché il player trading e se il player trading l'Inter non lo fa player trading è quando vendi a cento e investi cento all'Inter vende per cento ventotto cento trenta come l'anno scorso e compra per sessanta settanta quindi non è player trading una squadra costruita a zero certo è costruita a zero perché non hai non hai investito quello che hai speso quindi è una squadra costruita a zero a casa mia perché se vendi per cento trenta e acquisti per settanta è costruita a zero giusto serve serve la colatrice questi ragazzi hanno dipinto un miracolo sportivo insieme all'allenatore e non sono dei cyborg non sono dei cyborg sono fatti di carne e sangue come noi sono un po' scarichi di testa l'Inter è semplicemente stanca ma te lo spiego perché è semplicemente stanca soprattutto centrocampisti se ci fai caso se ci fai caso sono a pezzi perché devono continuare a creare e a gestire la fase difensiva quei i titolari che si sono infortunati tutti da da quelli sono fatti male in difesa da quelli sono fatti male a centrocampo da quelli che sono fatti male in attacco hanno tutti dovuto accelerare i tempi di recupero perché in panchina c'era il vuoto panchina i frattesi carlos augusto e aslani il resto c'è il vuoto perché anche i ragazzi giovani si faranno diventeranno bravi ma ad oggi non sono da Inter l'hai visto ieri hanno delle buone qualità bisse che è migliorato tanto ma l'hai visto in fase difensiva bisse che quando te lo dico mi devi ascoltare bisse che in fase difensiva ad oggi non è affidabile perché è sempre fuori posizione alle caratteristiche per migliorare sì alle qualità per migliorare sì ma ad oggi non è un giocatore da Inter Buchanan stessa cosa hai preso a gennaio Buchanan perché era l'unico giocatore potevi che ti potevi permettere a noi non serve Buchanan a gennaio a noi a gennaio serviva un attaccante siamo sempre lì quest'anno c'è stato un miracolo sportivo e molti di voi lo stanno sottovalutando questa è una rosa con tredici quattordici giocatori buoni il resto non esiste ditemi giocatori come Sensi come Klasen come Quadrado come Arnatovic cosa hanno dato all'Inter Sanchez Sanchez ultimamente qualcosa ma Sanchez ha fatto ha fatto sei sette mesi da querella ma di cosa ragioniamo cosa ha dato la panchina cosa ha dato la panchina te lo dice il campo noi siamo andati avanti grazie alla forza mentale grazie alle organizzazioni di squadra perché sono già due mesi che siamo sulle gambe grazie alla crescita organizzativa di questa squadra grazie alla gestione della partita che è cresciuta cosa che anche l'anno scorso non avevi perché noi ragazzi quest'anno abbiamo vinto tantissime partite di corto muso cosa che l'anno scorso non ci riusciva a fare quindi a parte i titolari Aslani Carlos Augusto Fratesi che poi Fratesi e Carlos Augusto per me sono dei titolari sono in panchina ma sono titolari c'è il vuoto bastone ieri tanti errori Aslani deve migliorare quando viene Aslani vedi sei forte però quando vieni pressato e scarichi la palla dietro devi migliorare lì ma Aslani è un calciatore che ha le qualità è un calciatore in cui io credo però ragazzi cioè mentre semplicemente stanca ma vinciamolo nel derby ma dov'è il problema dov'è il problema dov'è il problema quelli che ti ricevano l'Inter a venti a a una rosa lunga rosa più forte dell'anno scorso sono tutte cazzate fidati l'Inter a tredici quattordici giocatori poi c'è il vuoto più assoluto e il campo te lo ha detto perché ragazzi e siamo a maggio ah eccola scusate mi raccomando iscrizione al canale gratis e campanellino rimetti cosa della chat giuse te lo rimetto ecco qua il conto per chi volesse entrare in chat perché ragazzi andiamoci chiaro poi ci sentiamo più tardi oltre alla seconda stella sta arrivando anche la terza io sono felicissimo io sono contento come un bambino in un negozio di giocattoli dai ragazzi ma che cosa si pretendeva dai bisogna essere onesti ma ma da una squadra costruita a zero cosa pretendevi dai bravi bravi e bravi bravi brava la dirigenza bravo l'allenatore va bene bravi bravo anche i cinesi va bene basta vada via bravo anche te zango bravo grande zango ciao però ora ora noi abbiamo dato eh ciao steven stammi bene grazie a tutti